design e contract soluzioni forniture e allestimenti nel residenziale hospitality e retail questo è il titolo del convegno che ha avuto luogo a milano giovedì 15 febbraio presso il palazzo delle stelline convegno di info progetto organizzato da action group editore all'evento hanno partecipato 500 architetti e molte anche le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti oggi con piacere siamo tornati a milano e diciamo gli architetti vedo che sono molto curiosi soprattutto sulle novità che abbiamo presentato un esempio diciamo ultimo nato della nostra collezione degli lvt soprattutto il nostro investimento murale nel le vt vertical credo che sono molto curiosi ci fanno parecchie domande perché sanno che comunque come altre nostre tipologie di prodotto riesce a risolvere parecchie problematiche che quest'anno ci abbiamo creduto tantissimo quindi abbiamo aumentato le i nostri diciamo workshop nelle nostre date e quindi stiamo portando in giro per tutta italia le nostre collezioni per farle riconoscere sempre di più